Arezzo potrà vantare un'altra importante presenza all'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Comune di Arezzo ha annunciato ufficialmente che la Fondazione Guido di Arezzo sarà ospite con il suo polifonico all'Expo Milanese, platea di promozione internazionale. Martedì 16 giugno infatti all'interno dei padiglioni dell'Expo sarà presente la delegazione della prestigiosa Kermess di Musica Corale, eccellenza del calendario culturale di Arezzo. Quest'anno di lavoro ha portato a questa iniziativa che è la prima volta che viene realizzata dove tutte le manifestazioni più importanti in Musica in Italia che vanno sotto leggi dall'Italia Festival si riuniscono in questa serata in occasione dell'Expo e presentano non soltanto il progetto culturale ma in sinergia, in collaborazione con Confagricoltura i territori che rappresentano. Far dialogare il mondo dei festival e in questo caso il polifonico e il guidoneum di Arezzo con i produttori di qualità enogastronomici dei singoli territori ci pareva e ci pare una scommessa da lanciare non solo il 16 giugno in questa serata che verrà fatta a Milano ma anche in futuro. Ad accompagnare la rappresentativa della fondazione Guido d'Arezzo un'altra punta di diamante del territorio aretino Confagricoltura per presentare i prodotti agroalimentari nostrani. Noi in questo modo possiamo promuovere e far conoscere in Italia ma non solo anche all'estero le grandi qualità agroalimentari che i nostri prodotti hanno penso al vino, penso all'olio, penso al miele, penso alla frutta e non solo. Riusciremo quindi a unire e a dare una sinergia tra prodotti agroalimentari, cultura e aree. Leonardo da Vinci.